Joan Zarco, pilota a Moto2. Allora Joan, cosa ti porta qua a Moto Days? Vengo soprattutto per il team, quando mi chiamano subito arrivo perché già posso correre con loro e quindi sono qua soprattutto nel stand per fare il mio lavoro. Ecco, previsioni per la futura stagione? Rottare davanti sul podio e anche prendere vittorie quando si può e fare un massimo per quello. Oltre a firmare i tuoi autografi per i tuoi fans, sei qui anche per fare una cosa molto carina per il pubblico che ti segue. Ma soprattutto perché il mio team ha questo project che si chiama You Die Your Project che subito da domani, dal sabato 9 marzo, permette alla gente di partecipare per dare un pochino qualcosa e essere sulla moto, così permettono a tante gente, tanti fan di poter essere sulla moto, di sentire come uno sponsor che ha aiutato per farmi lottare davanti. Quindi è questo un project che inizia con il team Kame e questo è molto interessante. Per far sentire, diciamo, i tuoi fans partecipi. Sì, veramente, così. Provare l'emoto, quindi. Quindi quando mettono la tv e guardano il GP a casa... Sanno di cosa si parla, hanno provato l'emozione. ...per seguire il mio risultato. Certo, bella iniziativa questa. Hanno provato di fare questo per... Per avvicinare. Sì, più passione, ridare questa passione che c'era un tempo fa e che bisogna... Adesso bisogna rilanciarla. Bene, bravissimi, grandi.